Oggi ci andiamo a vedere il cacciator pediniere italiano di livello 6 leone di nome e di fatto Andiamo a vedere subito le sue caratteristiche È un cacciator pediniere davvero molto particolare e andrò a farvi notare subito alcuni dettagli molto interessanti Prima di tutto 15.800 punti di vita, sovralimentazione normale all'8%, artiglieria Abbiamo dei 4x2, quindi avremo in definitiva 4 torrette binati, sono 8 cannoni in totale Che sparano ogni 8.1 secondi, proiettili HE oppure proiettili AP Sparate sempre proiettili HE che non sbaglierete praticamente mai Siluri arrivano fino a 12 km di distanza, un danno tutto sommato ragionevole E una ricarica di 40 secondi, che cosa volete di più? Per attaccare i sommergibili abbiamo un numero di cariche classico Difesa contraerea, danno continuo 63 Cercate di non farvi trovare dalla portiera inimica perché non potete fronteggiarla in nessun modo Tranne mettendo ovviamente il generatore di fumo per cercare una salvezza temporanea Manovrabilità, abbiamo una velocità abbastanza standard Rotazione pala del timone, questo gaccia torpediniere praticamente si gira in un fazzoletto Veramente una pala e una rotazione davvero incredibili Mimetizzazione, qui siamo un pochino diciamo sopra la media 6.3 però negli standard è gestibile come spot rispetto agli avversari Andiamo a mettere il primo e l'ultimo potenziamento suggerito dal gioco Io qui sinceramente vado a mettere tubi modificati 1 anziché la batteria principale modificata 2 Come suggerisce il gioco, ora vi spiego il motivo Sovralimentazione modificata 1 per avere il 30% in più di consumabile Ragazzi, prima di andare a vedere il capitano, come sempre vi chiedo un semplice mi piace Per aiutare la community di World of Warships ad emergere sempre di più Ad aiutare il mio canale YouTube e a, come dire, incentivare maggiormente il vostro intrattenimento quotidiano Con video sempre più belli e si spera precisi il più possibile Quindi un semplice mi piace Guardate quante cose può fare Luigi Sansonetti, importante perché potreste attivare i suoi talenti Andiamo a mettere quindi ingrassatori e equipaggiamenti Con questa skill evitate di mettere quel potenziamento E la rotazione scenderà così sotto i 20 secondi Più che accettabile per, voglio dire, la partita E poi dovete sempre tenere la situazione sotto controllo Non è che avete i cannoni girati da un'altra parte Ok Manutenzione preventiva abbastanza utile Tutto per quanto riguarda i siluri Scarica di adrenalina E ancora, esperto di sopravvivenza Esperto di occultamento In ultima analisi, specialista di batteria Principale contraerea È una skill che ho preferito a sovrintendente Ho giocato il leone con sovrintendente Però durante la partita solitamente non si utilizzano mai Tutte le cariche fumogene che si hanno a disposizione Quindi averne una in più, sinceramente Non serve a nulla Per quanto mi riguarda Per quanto poi invece riguarda appunto I bonus economici, tutti quelli blu Con un rapido giro a 360 gradi Possiamo notare come le torrette Sono sparse un pochino su tutta la nave E i siluri sono concentrati Binati nella parte centrale dello scafo Ragazzi, mi raccomando il mi piace Se ancora non lo avete fatto Iscrivetevi se questi contenuti sono di vostro interesse Tanti di voi guardano i miei video Ma ancora non sono iscritti Mi dareste una grandissima mano A livello globale Per quello che ho detto prima Andiamo a vedere non una Ma due partite diverse Ovviamente con il buon leone Andiamo Siamo pronti a giocare una partita Con il nostro leone Siamo in una mappa Nuova alba Modalità supremazia Una portaerei Quattro corazzare Tre incrociatori Tre cacciatori perinieri E un sommergibile Allora Singolare il fatto che solo io abbia la taglia Perché comunque ci troviamo a livelli abbastanza bassi Quindi non posso cercare di affondare L'avversario con la taglia Perché non c'è una taglia Andiamo su Charlie Questa è una mappa che non vedete Spesso e volentieri nei miei video Perché comunque Si trova A livelli bassi E solitamente vi porto navi Dal livello 8 in poi Con questo tengo anche a specificare una cosa A me sinceramente piacciono tutti i livelli di gioco Non è che mi piace solo il livello 10 Solo le supernavi Mi trovo bene a tutti i livelli Conosco le navi di tutti i livelli Alti sia bassi Allora Sinceramente io qui attiverei il boost Così apprezziamo anche la velocità massima Del nostro leone Dobbiamo affrontare il Faragut La viere E la casta Loro hanno un plotone Noi non abbiamo un plotone Vedremo che cosa succede Si luri già Possiamo lanciarli Come vedete l'angolo di tiro Non è proprio fantastico Io li lancerei Verso quella parte lì Lasciamo Delle mine vaganti Ok Magari qualcosa andiamo a colpire Facciamo attenzione Perché ripeto A questi livelli giocatori Ancora magari non sanno molto bene Le tattiche di gioco E quant'altro Quindi Potremmo essere più soli del previsto Ok Ottimo Questo spot sul cacciatore peniere Mi fa capire un attimino Come posso intervenire Possiamo lanciare quasi di nuovo i siluri È fantastica sta cosa Colpire il cacciatore peniere con i siluri È relativamente impossibile Perché comunque Sono dei siluri Troppo lenti Quindi Adesso facciamo una bella pilare La secca a sinistra Ci prendiamo il cap Lui comunque rimane là dietro Vediamo Sì Ma non mi interessa Quel che fa Qui a un certo punto Sono dei siluri Che ho lanciato In maniera del tutto casuale No vabbè Mi viene da ridere No Se avessi fatto il colpo devastante Primo sangue Staremmo parlando già di altro Bavini Lanciamo Lanciamo Però 18.000 danni Come primo Come primo lancio ci sta Questo capo è Cioè Quanto ci mettiamo a prendere il capo Io rimarrei in questa zona Sinceramente voglio affrontare Fino a un certo punto La viere Perché comunque La mia cadenza di tiro Non mi consente di fare una cosa del genere Anzi Ci sono dei problemi su bravo Là c'è la casta avversario Per neanche sparare un paio di cannonate Oh è bello questo colpo Chi l'ha dato Aspettiamo che faccia una virata Non la fa? Se continua a muoversi Sinceramente Sarà un facile bersaglio Perché non sta nel fumo Abbiamo sempre otto cannoni Per il tempo qua abbiamo colpito anche Ecco appunto Wow Abbiamo colpito Il conico con tutti i siluri Ma serio? No fermo fermo Mi sono già fermato da un po' Fra Mi prendi? No Ci sono fermato in tempo Sto evitando di mettere il fumo Attualmente Lui ha spento comunque una Ha riparato una falla Potremmo andare un po' di cannoni Mettiamo il E dove esce questo qua? A un certo punto sta pushando la La viere O il fumo però Facciamo una cosa del genere Andiamo dall'altra parte Blocchiamo i cannoni Nel frattempo Girano il fumo Dura molto come potete vedere Quindi possiamo fare Questo movimento In qualche modo Controllato E io adesso non so dove sta di preciso lui È fuori dal capo però Questo è poco ma sicuro Secondo me mi sta inseguendo Eccolo Buona la portere 8 perforazioni 4.000 È rimasto a poco E non mi vedi E se non mi vedi come fa a colpirmi Vediamo se è qua a sinistra La portere sta giocando molto bene Perché non so se è una cosa voluta Ma sta spottando sempre il cacciatore peniere Lui dovrebbe stare vagamente in questa zona Vuole sfruttare il mio fumo È one shot Devo semplicemente Vederlo Wow Come on Attenzione perché potrebbe aver chiamato dei siluri Lanciato dei siluri Diciamo che in questo matchmaking Il nostro leone Ecco i là i siluri Il nostro leone No 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 Miseria Meno male Il nostro leone si comporta Abbastanza bene Si trova a suo agio A questo livello Anche perché ripeto Avete tanti cannoni Cioè miseria La velocità è abbastanza buona Con il boost Ora se arrivasse un incendio Sarebbe perfetto La portere sta giocando molto bene Non sono solito fare il più uno Così presto Però devo dire che mi sta piacendo tanto Occhio perché la Koenig No in realtà sta sparando a quell'altro Quindi possiamo sparare anche noi Vediamo un po' Eh l'incendio ovviamente A me non arriva mai l'incendio Possiamo andare sulla Nurbar in realtà Colpo devastante Colpo devastante Wow Sto a che dire Penso che verrà distrutta Distrutta prima la Koenig Però insomma Un paio di cose Glieli facciamo lo stesso Un paio di siluri Glieli chiamo lo stesso Peccato perché Poteva essere one shottato Inizio partita Dalle mie siluri Però insomma Non è andata Come speravo Loro hanno la Ryugio Lì dietro Sarebbe quantomeno interessante Fargli un colpo devastante Secco a destra Wow Partita terminata Abbondantemente Spiace Si poteva fare Qualche devastante Poteva uscire Soprattutto sulla Nurbar iniziale Lancia i siluri Bastava mezzo silura in più Sinceramente Vabbè È stata una partita Vagamente divertente Portiamo a casa Praticamente Un milione di crediti Punteggio Abbiamo fatto 1.700 Con 1.700 Rapporto dettagliato Abbiamo fatto male Alla Koenig Abbiamo fatto esattamente 31.406 Alla Nurbar Che quasi distrutto E poi i cacciatorpinieri Ce li siamo gestiti Crediti Levate le varie spese 909.000 Puliti puliti Siamo pronti A giocare una partita Con il nostro leone Siamo nella mappa Acqua e Settentrionali Modalità supremazia Una portaerei 5 corazzate 3 incrociatori E 3 cacciatorpinieri Finalmente Mi sono capitate Navi di livello 8 Perché così Devo concludere il gameplay Con il fiocco Come sempre Quindi Abbiamo visto Abbiamo visto Nella prima partita Navi di livello Giusto E ora Vediamo qualcosa Di più complicato Navi di livello 8 Con portaerei E non una portaerei Qualsiasi La portaerei Premium Sovietica Di livello 8 Per l'appunto Cikalov Che è semplicemente Ultra Devastante Ancora di più Per un cacciatorpinieri Che Cioè Se abbiamo due fionde Secondo me È anche tanto Come antiaerea Comunque Dettagli Allora Qui subito pronti Non perdiamo tempo In chiacchiere Perché dobbiamo lanciare Immediatamente I nostri siluri Qua dobbiamo Portarci in vantaggio Su Aspetta Forse l'ho lanciato Un po' male Vanno contro l'isola Non volevo Però Voi a prendermi un cap Vediamo che cosa succede Noi dobbiamo affrontare Il Gajamada Lo conosco L'Atsoaro E la Dushfall Va benissimo Signori E hanno anche una taglia Con l'Atsoaro Io mi sono scordato Di metterla Altrimenti Insomma L'avrei comprata Mi piace essere La taglia E ci abbiamo qua La Repulse La corazzata inglese Di livello 6 Signori Dunque Attenzione Primo attacco Della Portieri Su chi? Non ho ben capito Ah Sulla Bismarck Evitate di attaccare Le corazzate tedesche Perché hanno una cintura Corazzata Troppo corazzata Per i bombardieri Da rimbalzo Quindi Quello che andreste Ad ottenere È semplicemente Delle mancate Perforazioni E vi poi Faccio come volete Fate come volete Provate Potete anche provarci Io ci ho provato Per anni Quindi Andate su navi Francesi Su navi inglesi Sulle navi Giapponesi Ma evitate Le navi tedesche Per l'amor del cielo Ok C'è qualcosa in cap Che ovviamente Noi non vedremo Mai Addirittura Va bene Questo incendio Non lo volevo Sinceramente Era tutto molto bello Lo scontro Finché non mi ha dato Questo incendio Dove io perdo Altra vita Babini Il molotov Continua ad avanzare Così What Perché Occhio alla ricerca Etrofonica Del molotov No Fra Ma secondo lei Non capisco Sinceramente Alle volte Le giocate Dei giocatori Continuiamo A insieme Ma non lo so Ragazzi Si connette E fa sta cosa Non lo so Non lo so Veramente Non ripara Non fa Cioè Io così Mi scazzo Veramente A giocare Non c'è gusto C'è veramente gusto Signori C'è veramente gusto Tutto questo C'è un Baltimore A mezzo metro Allora La cosa più brutta Che può succedere È che mi lanciano I siluri In questa zona Quindi noi Consapevoli Di questa probabilità Facciamo una vera La secca a destra E ci riposizioniamo Perché non voglio sorprese Proprio zero sorpresa E La corazzata Non deve stare così avanti Soprattutto quando È un livello Insomma Che non può gestire Dove è lì Il Mogami Ah il Mogami È andato nel cap D'accordo Non so come aiutarti Non posso One shot Ma perché per Dinci Bacco Hai fatto questa roba qui Aspetta che è ancora vivo Incredibile Ma io non mi posso Inventare Per salvarti La pelle Cose strane Con tiri Sulla distanza Che Insomma Mi metti anche un po' Pressione Psicologica Perché devo colpire Il nemico Eccolo Ma lui continua A sparare Come se fosse Tutto normale Mogami è entrato Nell'incrociatore Nel cap Non so perché Lui ha poca vita però Il problema Che c'è il Gajamada Quindi dovrei affrontare Abbiamo perso Due corazzate Cosa ha colpito What Non lo so Cosa è successo Questo abisso Cos'è morto più Ah le due repulse Non capisco signore Faccio un po' Di fatica A comprendere Adesso la porteria E verrà da questa parte Perché giustamente Dice Proviamo a prendere il cap Non voglio rimanere Troppo in questa zona Anche se ci sta Sta arrivando il Mogami Ma non mi fido Perché Però aveva ragioni Io potrei anche Sparare un paio di colpi Al Al Baltimore In caso mettere il fumo Lì c'è il Gajamada No perché se elevassimo Il Baltimore Sarebbe una bella Un bel sospiro Di sollievo Questo mi da sempre Incendio comunque Incredibile Bravo Non mi puoi colpire Con le armi Con le tue Con i tuoi siluri Perché hai siluri Di profondità Quindi non sia Un pericolo Per me Da questo punto Di vista Diciamo Però i siluri Che ha lanciato Quell'altro Sono un problema E come Ok Pirata secca a destra No fra 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 Non la rischiare Perché già abbiamo Dei problemi Non devono pushare Su alfa Perché non c'era Uno due tre Sono quattro Sono cinque Ce la fanno Sono troppo I miei siluri Vagano sulla Mi metto a ridere Se il Baltimore Viene colpito No il Gaida Arrivano Primi i siluri Del Gaida E mi rovina il gameplay Grazie Gaida È molto gentile Ti adoro No del Mogami Perfetto ancora Tutto fantastico Wow Allora Abbiamo il fumo pronto In caso di necessità Io due siluri La te li lancio Ma non penso Che continuerai Da quella parte Il Gaida Ma da sinceramente Vorrei evitare Di confrontarmi Perché Andare proprio Da solo A stuzzicare L'avversario Con diecimila Punti vita Che ho Direi di evitare Direi di evitare Io opterei più Per una difesa Sul cap Non spariamo Siluri pronti In Che sta là Aspetta Vedi questi siluri Eh ma mi rovinate Tutto il gameplay Perché adesso Tu fai un altro Devastante Penso Bravo Aspetta che i siluri Non sono pronti I cannoni Non sono pronti Bravo Complimenti Eh signori Mi rovinano la clip Spara le AP Però fra Con le HE Con le AP Non fai nulla Rimbalzi tutto Anche se sei Un cacciatore Periniere Tedesco Insomma Se sta di prua Di poppa Così Non gli fai nulla Devo un attimino Aggiustare la mia mira Perché non sto Prendendo una mano Sa Vediamo se riesco a Non sto riuscendo A Colpirlo Vabbè L'importante è che si sia Allontanato Sti cavoli Su Alpha Alla fine Se la sono cavata Se la sono cavata In un modo o nell'altro Non Non ci avrei scommesso Un euro Però va bene Così Facciamo ancora Siluri Se fosse possibile Due siluri Ancora E basta Quei siluri Viaggiano Ma non so Se vanno A destinazione Abbiamo perso La Prince Eugen Incrociatore Premium Inglese Tedesco Molto interessante Con i 203 Ricerca hydrofonica Siluri Corazzatura Molto buona Che vuoi di più A favore Prenditi Siluri Ripendi Sì No Sono lenti Ma si Ha uno Faccio torpeniere Davanti a me A questa distanza Mi risulta Molto più facile Venirti a colpire Hai sottovalutato Il mio posizionamento E qua Veramente Non puoi fare più nulla Per scapparmi Mi fai male D'accordo Ma io Col prossimo Ti mando a casa E niente Mi spiace Perché in questa partita Potevano arrivare Davvero Devastanti Poteva arrivare Un po' di tutto Sinceramente Aspetta Aspetta che mi ha sparato Anche lui Forse non dobbiamo Rischiare più Del dovuto Io non sparerei più Io metterei il fumo La mitica antiera Del leone No Ma secondo te Io mi faccio trovare Impreparato So che c'è la porteria E non mi tengo il fumo pronto In una situazione del genere È normale che il fumo Non lo devo tenere pronto E mi prendi Mi one shot One shot No però Ci manca Qualche incendio Sarebbe gradito Per aumentare Il nostro punteggio Che fermo sotto i 50 Però avete visto Che anche in un matchmaking Del genere Qualcosa si può fare Ora la squadra Si è ripresa Perché Anna certa Io non Ripeto Non avrei scommesso Un singolo euro Ci sono state Ci sono state Delle giocate Molto buone Da parte dei cacciatorpinieri Brutto Sì sì Luri Vabbè Poi Ok A 50 Stiamo saliti Incendio Manco Appagarlo E poi Oh abbiamo giocato Bene come cacciatorpinieri Incredibile E anche è vero Che il posizionamento Generale Delle navi Non è che sia stato Ottimale Dei nemici Anzi Wow Qua la cadenza Non mi Non mi consente Di Abbiamo attivato Anche questo D'accordo Quindi è fattibile Attivarlo Senza problemi In un tempo Relativamente basso Anche se sono stato Molto fermo Nello sparare O per meglio dire Insomma L'ho sparato Quando Quando serviva E sono comunque Insoddisfatto Sinceramente Perché Il danno è poco Questa è una nave Che può fare anche 100.000 Senza problemi Però vabbè Accettiamo come sempre Il verdetto E Il punteggio squadra È molto basso 1463 Però Per una nave Di livello 6 In un matchmaking Con navi di livello 8 La partita è durata poco Eccedere Ecce Abbiamo fatto pure Due kill Non è da buttare Con i cacciator penieri Ce la siamo giocata Abbiamo rischiato Il dovuto E poi Va bene così Mi sento Vagamente soddisfatto Ora Vi ricordo Ora vi ricordo Che con il vostro Cacciator penieri Leone Andate a penetrare Esattamente 20 mm Di corazzatura Con i proiettili H.E Facendo un rapido Una rapida analisi Dei cacciator penieri Presenti A livello 6 Nessun cacciator penieri Presente nel gioco Può assorbire I colpi Perché hanno Una corazzatura Di 16 Praticamente Ovunque Sovrastruttura 10 mm Addirittura E quindi i colpi Da 16 Che sparate Andranno Sempre e comunque A penetrare L'avversario Il che si traduce In un danno Costante Sempre e comunque Ora La maggior parte Dei cacciator penieri Hanno una struttura Del genere Per vedere Una corazzatura Un pochino Più robusta Dobbiamo salire Di livello Dobbiamo andare Sulle supernavi Dobbiamo andare Sulle navi tedesche Di livello alto Però ripeto Grosso modo La situazione È la seguente Un'analisi Approfondita Sarebbe da fare Anche con Le navi Di livello 7 Di livello 8 Perché se Dovesse Esserci un cacciator peniere Di livello superiore Dobbiamo sapere Se riusciamo a penetrarlo Oppure no Dobbiamo sapere Quello che Affrontiamo Quindi Ritengo che uno studio Della corazzatura Di tutte le navi Sia quantomeno Doveroso O perlomeno I diretti avversari Che possiamo incontrare Magari Vi potreste limitare All'inizio Per non confondervi Troppo le idee Ai cacciator penieri Di livello 6 E poi piano piano Vi studiate Tutti gli altri Sì sono tutte le navi Del gioco Sì sono le corazzature Lasciate stare Infognatissimo Io sono un caso A parte Disperato Ok Però per quanto riguarda Questa cosa È da studiare Fino in fondo Quindi 20 mm Sono più che sufficienti Per penetrare Qualsiasi nemico Lato negativo Dei siluri Come avete visto Spesso e volentieri Potevamo fare Un colpo devastante Se non fosse Che i siluri Di per sé Hanno una velocità Comunque contenuta Perché altrimenti Serebbero troppo devastanti 12 km di distanza E 40 secondi di ricarica Sono veramente Qualcosa di incredibile Un po' di sfortuna Complessiva Nelle partite Però in definitiva Ritengo che il Leone Sia un cacciatore per linee Tutto sommato Molto divertente da giocare Che abbia Una particolarità Molto unica Questi siluri Veramente a 12 km In 40 secondi Di ricarica Uniti Lo ripeto ancora una volta A ben 8 cannoni Che vanno a penetrare Sempre e comunque Ecco perché la ricarica È così elevata Non potevano darvi 8 cannoni Con un tempo di ricarica Di 3-4 secondi Sarebbe stato davvero Troppo potente Da fronteggiare Per quanto riguarda i nemici Ragazzi il video terminato Io come sempre vi ringrazio Per i commenti Di visualizzazione E noi come sempre Ci vediamo Un po' nel prossimo Debray Ciao